I progetti che presentiamo oggi puntano l'attenzione sull'aspetto sociale del tema dell'autismo e da un lato si occupano della formazione degli sia insegnanti che del personale educativo quindi che si occupa del servizio di integrazione scolastica sui temi specifici dell'autismo dall'altro invece si consente con un investimento superiore ai 6 milioni di euro agli enti territoriali di potenziare il servizio di integrazione scolastica e soprattutto di far proseguire quel servizio al di fuori della scuola e quindi di erogare attività e servizi extracurriculari Gestire i ragazzi in condizioni di autismo richiede competenze professionali altamente specializzate che vanno dalla pedagogia alla didattica al saper utilizzare tutte le tecnologie che possono offrire un supporto a questi ragazzi autistici pensiamo a tutta la comunicazione aumentativa e alternativa che richiede competenze tecniche integrate con le competenze didattiche e pedagogiche quindi se non si investe sulla formazione del personale docente e del personale educativo o anche dei collaboratori scolastici che ruotano attorno alla gestione del ragazzo autistico non si potrà mai realizzare un progetto educativo e un progetto di vita per i ragazzi autistici Grazie 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 Grazie